Paura per tre minorenni residenti a Sorrento, ricoverate sabato notte presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno con allucinazioni e crisi ansiose. Le tre ragazze si sono sentite male mentre si trovavano all'interno di una nota discoteca del litorale di Ponte Cagnano-Faiano e sono state soccorse dagli operatori del Vopi, allertati dai presenti impauriti. Stando ad una prima analisi dei sintomi le ragazze avrebbero assunto delle pasticche, una droga quest'ultima che arriva fin troppo facilmente sulle piste delle discoteche e nelle mani di giovani inconsapevoli degli effetti.